Presidente Cerute, se il campionato finisse oggi l'Agropoli sarebbe salvo, però la squadra non offre grandi garanzie anche rispetto ai turni che dovranno arrivare, perché ci sono partite con la frattese ancora, c'è il turno di riposo. Purtroppo il campionato non è finito, mi spiace perché oggi sicuramente eravamo rimaneggiati, veniamo pure in una brutta sconvitta domenica scorsa, dopo un lungo periodo di positivo, dobbiamo solo ritrovare sicuramente le nostre forze, rientreranno gli altri ragazzi che potranno dare comunque una mano importante a cominciare dal portiere, anche se oggi ringraziamo il ragazzino che ha giocato in porta, siamo grati naturalmente alla sua prestazione, però anche l'assenza di polverino è notevole, così si può sentire pure a centrocamba l'assenza di melis. Certo, domenica prossima è altrettanto una partita preobitiva, ma come hanno sempre dimostrato questi ragazzi, poi vedrai che ci sorprenderanno, mi auguro, non tanto per la partita sicuramente di contro la frattese, ma poi la settimana dopo abbiamo una partita importante, ci giochiamo lo scontro anche con il Gragnano. Mercoledì si gioca? Mercoledì, mi auguro naturalmente che questa partita la possiamo disputare sicuramente con tutti gli uomini e con la stessa vigoria che è stata la settimana scorsa. Ecco, Domenico, secondo te quanto pesa sul campionato dell'Agropoli i primi due mesi e mezzo giocati in esilio? L'economia di questo campionato ci sono tante defaianze, sì, sicuramente il fatto che abbiamo disputato tutte le partite in casa, non l'abbiamo disputato qui ad Agropoli e fuori, ha pesato tantissimo, anche perché noi siamo voluti partire comunque con ragazzi, altrettanto comunque ha pesato, però tutto sta pesando. Una cosa che va presa per buono, visto qual era il nostro programma, ringraziare questi ragazzi per il campionato che stanno facendo. Mi dispiace solo, noi ci manca il pubblico, come pure oggi, abbiamo sempre meno tifosi che vengono a vedere la partita, questo è un grande dispiacere, però prendiamo atto e rispettiamo i tifosi, speriamo che naturalmente in proseguo ci possano stare vicino, perché poi vediamo sugli altri campi quando è importante, anche per le squadre che si devono salvare, vedi che stanno lì, sostengono i propri ragazzi, penso che il dodicesimo in campo è importantissimo per questo campionato. Grazie. 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 Grazie.